Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti, come state? Spero di cuore che state tutti bene. Mi dispiace tanto che non sono mai entrata da tanto tempo per voi, però sono stata in ferie in Romania, non ci ho avuto tanto tanto tempo. Giustamente che per tutte le persone di qua d'Italia, miei amici di cuore, vi ho fatto scrivere su preghieri la chiesa importante di Romania, da noi si stanno facendo preghieri contro maledizioni e così via, per togliere tutto male della vostra vita. E tutte le persone che io ce l'ho in mio cuore, tutti i miei amici di qua d'Italia, io mi sono a queste belle preghiere per aiuti in famiglia. Dicendo questo oggi ho iniziato a farvi, cioè ho iniziato, voglio iniziare a fare un video per voi, con questo meraviglioso caffè, dicendo che è energia di mese di settembre, perché già siamo in settembre. Oggi è il bello compleanno di mio marito, domani sarà il mio compleanno. A me mi ha preso un po' di freddamento in questo viaggio, perché in Romania il cambio di temperatura era un po' più fresco, qua è caldo, mi ha preso un po' di fresco, però speriamo bene che tutto passerà. Beviamo una grappa e passa. Dicendo questo vi auguro una bella giornata, auguri a tutte le persone che festeggiate in questo mese di settembre il vostro compleanno, auguri a tutte le vergine di mondo sul segno di oroscopo, segno di terra, un segno bello, dico io, anche un segno lavoratore. Allora, iniziamo a fare questa bella lettura per voi tutti. Prima di tutto tiriamo una carta fuori per vedere giustamente una energia di questo mese per voi. E qua è una energia di furbizia, di spia. State attenti con le persone intorno, anche in lavoro, anche familiari, anche amici di cuore, perché qua siete spiati, ok? A parte di fate parte di un gruppo, avete persone che non sono di fiducia, persone che si può vedere chiaro che si sta spiando, persone che li piacciono le chiacchiere e così via. Attenzione Massimala, questa energia un po' di furbizia. E iniziamo con il nostro caffè. Vediamo che vi sta dicendo la energia di questo mese. La caffè è uscita proprio così. Qua giustamente che tante persone fate viaggi, no? Avete anche un protezione, vedete qua un angelo che vi sta proteggendo di tutto male, ok? Di tutte le persone maline che sono fuori di casa. Avete un protezione, a parte di siete con la iniziale di F, di C, di A. Ma vedo che siete un po' protetti. Fuori di casa vi esce un po' di bistici, un po' di menzoni, un po' di confusione. Va bene. Per le persone in casa, vediamo in vostra casa. Qua esce un buio totale. Vuole dire che tante persone in questo mese siete un po' su un stato di confusione, diciamo così, confusione emozionale. Perché se succede in due punti, diciamo, due giorni, due settimane, una cosa, o se è successo già una cosa che va messo in questa confusione, una cosa che si tratta di dinaro. Probabilmente siete un po' con problemi di soldi e siete su stagio di confusione. Dopo mi sta uscendo qua una persona con iniziale di, mi esce un I, mi esce un M, mi esce un N, sta uscendo una stabilità, un'ancora. Vuole dire che siete stabili in vostro matrimonio, in vostra famiglia. Giustamente tante persone avete un voto per perdere qualcuno. O probabilmente qualcuno in la vostra famiglia è malato, dovete stare un po' attenti, però di una malattia incurabile non si può fare niente perché questa persona andrà oltre. Vuole dire che morirà. Dopo si può vedere che ricevete tante visite piacevoli, diciamo così. Le visite che arrivano in casa vostra, le persone che vi fa piacere, possono venire familiari da lontano, che fanno una vacanza da voi, o può essere che vi vengono amici di cuore a farvi visita. A parte iniziando da 13, 14, arrivano queste visite inopinante, bellissime. Dopo per una delle persone in questo mese sarà un evento improvviso, diciamo così. Questo evento può dire che è una cosa un po' negativa, una cosa che voi non vi aspettate. Si tratta di un scandalo, si tratta di una notizia di morte anche. Qualcuno morirà così improvvisamente, rimanerate male. Qua mi sta uscendo una iniziale di S, di C, di O, di N, di F. Le persone con queste iniziali che voi prendete questa notizia che è un po' disconfortabile, diciamo così. Dopo mi sta uscendo fortuna, però vi sta dicendo che dovete stare attenti anche alle furbizie, perché qua esce due gatti, due gatti che si stanno coccolando. Ma questi gatti sono gatti un po' furbi, sono gatti un po' che non sono gatti normali. Quei gatti che vogliono qualcosa in cambio quando si coccolano. Quello vuole dire le persone furbe, le persone che vogliono ottenere qualcosa da voi in due punti. Le persone che ce l'hanno iniziale di G, le persone che ce l'hanno iniziale di M, di Z, di E, di I. State attenti a queste persone anche in ambito lavorativo, perché qua si può vedere tante persone in ambito lavorativo. Dopo qua si vede un rospo, state attenti alle energie negative, perché probabilmente in questo mese qualche persona che non vi supporta vi vuole mandare tramite questo rospo, vi vuole mandare un'energia un po' malina a casa vostra. Dopo mi sta uscendo che tutte le persone che volete fare un affare su conto proprio, questo affare uscirà con successo a breve, perché vi esce fortuna, vi esce abbondanza, vi esce un 7 e vi esce anche iniziale di S, di T, di N, di O, iniziale di C. Quindi le persone che siete con questa iniziale, vi esce la fortuna, vi esce abbondanza di dinaro su un affare che voi lo volete fare su conto proprio. Dopo saranno desideri in amore, che si possono trasformare in realtà. Dopo come si può vedere, trovate un uomo bello, è una casa, una visita, probabilmente siete invitati a una cena, siete invitati a una festa. E lì potete trovare un uomo interessante, un uomo bello, parlo di donne che siete sole, ok? Un'altra cosa interessante in questo mese di settembre, può uscire che vi pacificate con le persone che in passato hanno avuto, diciamo così, un po' di discordia, avete un pacificamento. E dopo altre persone che siete credenti, cristiani, vedo una bella candela accesa, vuole dire che i vostri desideri tramite universo, tramite Dio, per avere un bambino in caso in quale vi desiderate tanto, si trasformano in realtà. Dopo qua mi sta uscendo tanti viaggi, tante confusioni, mi sta uscendo una perdita di dinaro per le persone, attenzione massima, con la furbizia, ok? Qua mi sta uscendo una perdita in caso in quale giocate la giochi di fortuna, giochi di queste cose, a parte persone che siete con L, persone che siete con P, persone che siete con T, attenzione massima. E qua mi sta uscendo in questo mese un maraviglioso viaggio dove conoscerate persone nuove e persone troppo interessanti per voi. Vediamo un po' anche che dice su piatto. Vediamo anche qua che sta dicendo. Qua mi esce un ragno. Un ragno può significare un scandalo, una discordia con qualcuno. E qua problemi con la legge. Attenzione massima per una persona con iniziale ADV perché può uscire un problema con la legge. E dopo qua vedete giusto c'è una donna ma c'è la bocca tappata, vuole dire che qualcuno vi chiuderà la bocca. O i vostri amici che voi avete, persone che non vi supportano, saranno chiuse le bocca perché probabilmente Dio viene con un bel castigo. Qua mi esce un animaletto bellissimo, sarà una fortuna in amore. Anche se siete caricati tanto con una bella energia negativa, si può vedere, vedete questa energia che piana su di voi. Però qua mi sta uscendo che una persona si chiuderà la bocca. Vedete arriva questa cosa e chiude la bocca. Avete probabilmente una persona che chiacchiera tanto e arriva un castigo e questa persona chiuderà la bocca, non mai può parlare di voi. Giustamente che si può trasformare in realtà un desiderio in amore. Qua c'è un elefante con la trompa su una fortuna di dinaro. E giustamente che qua qualche problema è con la legge per qualche persona. Dovete stare attenti, persone che siete con l'iniziale di V, di B, di H. E in generale è bello. Allora spero di cuore che vi sia piaciuto questa lettura. Mi chiedo di nuovo scusa perché da tanto tempo non sono mai entrata anche per voi. Adesso iniziamo a farvi fare anche riti. Prima un po' vi faccio vedere anche riti, anche a voi, per imparare certe cose in questo mese. Dicendo questo vi auguro un giorno di martedì bello, pieno di felicità, di salute e di pace.